partiti e in vantaggio Donna Prassede davanti a Tucci, Iole Mailov, Atti, Bridge Arabrab, Terra in Sabina e Dobade, dopo 300 metri di corsa passa Tucci davanti a Donna Prassede, Paola Forever, Atti, Iole Mailov, Bridge Arabrab, Torri in Sabina e Dobade. All'inizio della curva in vantaggio Tucci davanti a Donna Prassede, Paola Forever, Bridge Arabrab, Iole Mailov, Atti, Torri in Sabina e Dobade. Poco prima dell'ingresso di Tura in vantaggio Tucci davanti a Donna Prassede, Paola Forever e Iole Mailov. I cavalli entrano in dirittura e in vantaggio lungo la corda Tucci davanti a Donna Prassede, Paola Forever, Iole Mailov, Atti, Bridge Arabrab, Dobade e Torri in Sabina. In vantaggio Tucci attaccata all'esterno da Donna Prassede, seguono Atti, Obade, Bridge Arabrab, Paola Forever, Iole Mailov, per linee interne. E sempre in leggero vantaggio Donna Prassede attaccata all'esterno da Bridge Arabrab ed Atti lungo la corda Iole Mailov. seguono Obade all'interno e Donna Prassede all'esterno, Bridge Arabrab, a centro pista Atti, passa Atti davanti a Donna Prassede, Bridge Arabrab ed Obade. Grazie a tutti. Grazie a tutti.